No man is an island. Che cosa intende una persona che recita questo proverbio? Ciao, sono Monica e impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio svelarti il significato dell'English Saying of the Week che ho scelto per te per questa settimana. No man is an island significa quindi letteralmente che nessun uomo è un'isola. In altre parole, gli esseri umani hanno bisogno di essere parte di una comunità per poter crescere bene e prosperare. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima settimana con un nuovo English Saying of the Week e normalmente ti invito a taggare una persona che ti è venuta in mente recitando questo proverbio. Ricorda, no man is an island. A presto!